via podgora via via podgora via podgora via via podgora gallas mi piaci all night long gallas mi piaci vergognosissimo buongiorno a tutti buongiorno a tutti oggi è lunedì 14 di febbraio san valentino e dobbiamo dire che c'è il primo rientro vincenzo quindi senti l'applauso sottofondo grazie basta è tornato vincenzo tutto a posto bene quindi con il vaccino ta presa ma però bene la settimanina come è fatto 15 giorni 15 giorni perché è dovuto fare tampone quindi oggi san valentino non possiamo non fare una barzellettina su san valentino non so se l'ho già fatta però la rifacciamo magari in maniera e c'era questa coppia questa coppia siamo abbastanza sposati già da un po ma sempre giovani lui rappresentante la moglie dice senti non mi porti mai in giro pericolà mi dicono che vai sempre in questo night club no sì no ma noi andiamo perché sai che vengono i rappresentanti sempre allora noi andiamo alla cena firmano il contratto e poi li portiamo questo night ormai si dicono riportando anche a me insomma talmente ha rotto le balle che non ce lo bambini arrivano a questo night il portiere carissimo vincenzo si chiamava vincenzo carissimo vincenzo buongiorno è la moglie sì buonasera è la moglie ma ti conosco ma sì ti ho già detto che vengo con i rappresentanti no poi entra dentro servicenza solito tavolo e lei come sopra si allora vengo qua non è che possiamo deve essere siccome siamo veloci al tavolo servicenza il solito se un panino simi due anche per la signora si tratta che conosco vediamo veniamo spesso certo punto comincia a spogliare uno così con la musica sottofondo vivono questo se un panino la signora un po imbarazzata perché questo è un night night così con un certo punto questa qua togliere di scena e fa a chi lo diamo questo e tutti a vincenzo ma cosa fai ma no ma no ma è un caso sai quante vincenze ci sono ma come puntato subito ma no perché poi invece c'è scuro o melà ma lascia stare allora dopo un po togliere le buttandine a chi lo diamo le buttandine tutti sempre come sempre a vincenzo e giù la signora è cazzata brutto porco sporcaccione ma no ma no guarda che tu è uno scherzo no sporcaccione prende va via chiamo un taxi taxi lui va dietro no ma aspetta saranno le tasse vergognati porco con il colano e comincia a gridare il taxi va brutto sporcaccione ecco dove andavi la sera a certo punto il taxi si ferma si io le fa di vincenzo avevo portato a casa delle stronzio ma una così mica tanto un saluto per preferire vuoi se mai vedi posto di borsa borsa valentino a tutti e stasera no ecco e poi era siamo con una chicca che questa coppia si alza no lessi la mattina se si svegliano lessi stiracchia li fa amore lui dimmi ma mi hai sognato questa notte non ho dormito bene ciao a tutti ciao 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 via podgora via via podgora via podgora via via podgora galas mi piaci via podgora via via podgora all night long via podgora via via bubora via via podgora via via pregora via poi cogna via via ve governosissimo